Ciao e bentornato su Sol Mask. Oggi sono molto stanca perché il lavoro è tanto da fare. Non so se vi ricordate nel scorso episodio, a un certo punto avevo finito l'energia della maschera. Ora vediamo come riuscire a recuperare l'energia della maschera. Apriamo col tasto Y il pannello della maschera. Vedete che qui c'è proprio l'energia e vedete che sono agli sgoccioli. Qui troviamo proprio, poi dopo vi farò vedere, che si va a riempire per farci vedere quanta energia abbiamo. Quindi come facciamo per andare a aumentare la nostra energia? Dobbiamo andare a utilizzare alcune cose. Dunque in alcune casse avevamo trovato queste qui, le Sunstone. Ecco, queste andiamo a mettere all'interno del nostro inventario e se ci clicchiamo sopra ci regaleranno l'energia. Adesso vi mostrerò come fare. Allora, ovviamente fate il tasto E per andarle a usare. Lo facciamo un paio di volte e ora andiamo a controllare. Vedete che qui è già aumentata il colore, vedete il beige è aumentato, siamo a metà maschera. E abbiamo 257 punti su 500, quindi dobbiamo andare a utilizzare ancora qualche Sunstone per avere poi la maschera completa, caricata al massimo. Quindi questi Sunstone al momento servono per questa cosa. Dunque, allora adesso abbiamo riempito completamente, vedete, 500 su 500 e anche il disegno della maschera è completo. Quindi siamo con la massima energia a disposizione. Dunque adesso voglio imparare un po' a utilizzare l'agricoltura. Quindi andiamo a sistemare le nostre zolle di terreno che ho appena craftato. Ecco, in questa maniera qua. E vediamo un po' come funziona il tutto. Dunque, ho un po' di semi, quindi li vado a sistemare nella barra e poi ci premo. Come funziona? Praticamente vedete che esce questa piantina. Se è bianca la possiamo andare a posizionare, se è rossa vuol dire che deve mantenere una certa distanza tra una pianta e l'altra. Quindi andiamo a posizionare tutte le piantine possibili e immaginabili che abbiamo. Quindi tutti i semi che abbiamo a disposizione. Dunque, ora ci andiamo a craftare il water tank, ossia un vaso che ci servirà per andare a raccogliere l'acqua e innaffiare il nostro campo. Quindi abbiamo tutto e possiamo iniziare a farlo. Dunque adesso andiamo a raccogliere un po' d'acqua come abbiamo fatto precedentemente con la borraccia. Ecco, e andiamo a innaffiare il nostro campo. Purtroppo è notte, non so se si vedrà l'operazione, però basta semplicemente mettere il vaso in mano e andare a cliccare il numero del tasto corrispondente e così andiamo a innaffiare il nostro campo. Nel mentre che aspettiamo che escano le piantine, andiamo a fare dei piatti. Ci servono per andare a fare poi il brodo. Il brodo ci servirà per andare a prendere nuovi NPC. Abbiamo già visto negli scorsi episodi come andare a catturare gli NPC. Ma una volta catturati, loro cadono svenuti. Per risvegliarli, gli dobbiamo dare questo brodo. Quindi andiamo a farlo in modo così che possiamo andare a prendere altri gildani. Dunque, allora, non facciamoci vedere. Eccoli laggiù. Sono in due, quindi vabbè, sono sempre livelli bassi, ma preferisco fare questi qua, perché comunque rischio, poi anche tante volte, ho già preso alcuni, di farli troppo danno con quest'arma qui che ho. Quindi spero adesso con le frecce di riuscire a prenderne almeno uno. Vi consiglio comunque di andare a utilizzare un'arma scarsa, perché vedete, vi dovete fare veramente un po' di danno, ma non troppo danno. Ecco, allora, andiamo a utilizzare la nostra maschera guardandolo negli occhi e ora lui è svenuto. A questo punto gli possiamo dare subito la nostra bevanda, ossia il brodo, che abbiamo appena fatto, in modo che gli dà idratazione e anche gli riempie lo stomaco. Tornati a casa, vedete che comincia l'ultima barretta, quella viola, incomincia a salire. Prima stava a zero. Lui, in questo caso, sta perdendo anche un po' di vita, quindi grazie proprio all'uso del brodo dovrebbe un po' riavere la vita. Ecco, si è ripreso, perché una volta che la barra viola arriva circa a metà, lui si risveglia. Dovete stare attenti, come vi dicevo prima, che non perda la vita e vada a morire. Ecco perché serve il nostro brodo. Ottimo, ora è passato un po' di tempo e vediamo se i nostri ortaggi sono usciti fuori. Oh, questi sono abbastanza grandi. Li possiamo già incominciare a prendere. Quindi andiamo a raccoglierli, così semplicemente utilizzando le mani. Adesso mi viene in mente che non so se è meglio anche andare a utilizzare il falcetto, se ce ne dà magari di più. Questa è una cosa che magari la prossima volta andrò a sperimentare. Anche qui vedete che le piante sono cresciute e finalmente abbiamo il cotone. Una volta che abbiamo la verdura possiamo andare tranquillamente a farci i semi. Quindi andiamo a preparare altri semi, così andiamo a piantare nuove piante e poi andremo a fare finalmente un po' di farina di mais che ci esterirà per andare a catturare i tacchini. L'operazione ormai è diventata molto complicata e difficile per quanto mi riguarda. Cari amici, oggi finalmente riusciamo a fare gli strumenti superiori a quelli di pietra, ossia fatti con le ossa. Quindi andiamo a craftarli tutti e tre sperando che esca qualcosa di viola o addirittura rosso. Il campo che abbiamo visto negli scorsi episodi random produce vari tipi di vegetali e questa volta c'è il peperoncino e questo me lo vado a prendere perché non l'avevo e quindi mi servirà. Ora, dopo tutto questo lavoro mi vado a concedere un po' di riposo. Vi ringrazio per la visione, come sempre vi chiedo un bel mi piace e ci vediamo per un prossimo episodio. Ciao! Grazie! 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 Grazie!